Cosa ti dicono quando ti arrivai a partecipato e hai di servire per rimanere nel match? Cosa ti dicono di differente? Perché lo so se non vincere questo gioco sono finita. Quindi sì, sono buona da parte. 12 volte sotto i 12.90, arrivando a 12.78, a due centesimi dal record italiano di Veronica Borsi del 2013. La ragazza che studia la veterinaria, viene da Alassio, l'olica di Savona, gareggia per Fiamme Oro, Padova e Ecus Genova. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Grazie. 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 Victoria Lamp on hypännyt loistohypyt kaksi kertaa. Hän on viidentenä. Victoria Lamp siis, vaikka oli viimeinen, joka pääsi tähän. Siinä on tuo sivusta käsinseisontaan nousu. Mielenkiintoisen näköinen. Kymmenneksi sitten lopulta tuli. Käsiltä taaksepäin kaksi volttia puolitoista kierrettä. 3,2 on kerrointa tässä. Saragaro è un�enico e un ruota bollessi è un ottimo, comunque dove cazin si pu puoleva. Saragaro è un ruota, non è una persona che cazin si può vedere. Il Britta è uno annoso, ha tornato실 e il primo è una squadra di cazin si sta in una squadra di cazin si può vedere. 2 volti, 1,5 kierte. 3,2 vaikeutta. Se on 2,7. Eli sehän nyt on selvää, että Iira Laatuisen sarja on helpoimpia ja sillä ei tietenkään... ...Raisinger, Sofia Raisinger Unkarista, jolla oli edellisellä kierroksella pikkuisen vaikeuksia. Hän on kahdeksantena. Käsiltä lähtee hänenkin. Mutta se on eteenpäin. 2 volti ja taittain. 2,4. Se on se helpoin hüppi mitä täällä tehdään. Yhä. 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 La più anziana di questa batteria è l'onora Iori, fratellanza moda del 98 come la sua compagna di colori Laura Fattori che parte in corsia 6. Si va sui blocchi, vediamo la fontana che già aveva aperto benissimo. Grazie! 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 So Yulia Levchenko, the Ukrainian, first attempt at 1.92m. Isitz Caner, leads the world with 2.6m, she's the only athlete this year. But before that, Morgan Lake. Second attempt at 1.95m. She's got the crowd behind her. A clear scorecard up until this height. Oh yes! Well! When it really comes down to it, it's like seven seconds of tunnel vision. It's very easy. No, it's really easy. It's easy. What's up? Yes! No, no! ma un po' di tecnici Il giudice è 5-1 per il pubblico. Il giudice numero uno, grazie. Paola Pineda. Faccio il pubblico. Il giudice numero uno, grazie. Il giudice numero uno, grazie. Quasi alla Pittina. Questa èua stessa. La pagina è solita, un Leadership. Il giudice è un lavoro dioringa della U поставita a Roma. �ipse 9 per il giro. Evento in 7th place, Spectators 2.